salve a tutti oggi in questo video vedremo un modulo convertitore di cdc step up diciamo i classici boost che poi vedremo cosa significa questa parola praticamente sono questi circuitini qui che non sono altro che dei convertitori di tensione hanno diciamo sono della tipologia boost questa questo che vedremo si basa sulla famiglia di integrati xl 6009 e in particolare questo con la versione nuova cioè con la sigla e1 come vedete sono dispositivi di piccole dimensioni sono abbastanza veloci che poi vi spiegherò cosa significa e riescono ad erogare una notevole corrente come vedete in questa immagine il dispositivo è molto compatto infatti risulta avere una lunghezza di 43 mm una larghezza di 21 è un'altezza di 14 data dalla praticamente dai condensatori presenti sulla scheda quindi come vedete di me molto compatto cos'è un convertitore boost allora un convertitore boost o convertitore elevatore step up non è altro che un convertitore dc dc in corrente continua ovvero il cosiddetto dc dc converter cosa fa questo diciamo dispositivo non fa altro che elevare la tensione d'ingresso quindi l'alimentazione e portare diciamo una tensione più alta in uscita sul carico ecco perché vengono chiamati boost non fanno altro che elevare la tensione d'ingresso però cosa succede nel momento in cui aumenta la tensione contemporaneamente diminuisce la corrente perché comunque la relazione che esplicita la potenza è praticamente pi uguale v per i quindi all'aumentare della tensione ovviamente diminuisce la corrente perché questa legge ovvero pi uguale v per i deve essere conservata come diciamo come funziona un convertitore elevatore praticamente i convertitori boost sono una classe di alimentatore a commutazione attualmente molto utilizzati i cosiddetti switching allora nella loro configurazione circuitale praticamente devono contenere almeno due secondi semiconduttori che non sono altro che un diodo è un transistor come base ci sono questi qua è almeno ovviamente un elemento di accumulo di energia perché questi qua per elevare la tensione non funzionano altro che con l'accumulo di energia questa energia da dove la prendono praticamente la prendono tramite un condensatore un condensatore un induttore oppure la combinazione di entrambi nell'uscita di questi dispositivi praticamente non è lineare non è perfettamente continua sia una certa ondulazione ovvero oscilla la tensione di uscito oscilla un pochino questa oscillazione viene chiamata ripple normalmente per ridurre questa oscillazione che comunque è sempre piccola però la si può comunque tranquillamente ridurre nella configurazione circuitale vengono aggiunti sia in ingresso e sia in uscita dei condensatori o comunque combinazione di condensatore induttore quindi si avrà la combinazione con degli induttori all'uscita del convertitore quindi filtro lato carico e all'ingresso filtro lato alimentazione qui vediamo una tabella riprolegativa del convertitore che andremo noi a considerare come vedete lo specifica è l'off ripple questi qua diciamo hanno un basso una basso oscillazione nella tensione di uscita vediamo velocemente alcune caratteristiche questo modulo si diciamo si basa sull'integrato della famiglia xl6009 boost converter modulo ovvero quello che dicevo prima ovviamente questo qui è quello che vedremo noi e della famiglia si dell'xl6009 ma è la versione nuova con la sigla e 1 che diciamo è molto più veloce rispetto all'arecchia questo modulo tra ingresso uscita non è isolato infatti lo specifica ha una rettifica non sincrona in ingresso diciamo accetta tensioni tra i 3 e 30 volt ma l'operatività migliore cioè funziona in un modo migliore nel range 5 30 volt quindi la fascia di ingresso da considerare è 5 35 5 30 volt lui in uscita fornendo questa tensione può fornire la tensione d'ingresso ed elevarla fino a 35 volt la corrente diciamo che teoricamente questo qui può diciamo avere una corrente di uscita fino a 4 ampere ma diciamo è molto molto relativo infatti all'aumentare della tensione la corrente si riduce molto quindi già per esperienza personale già sull'ampere di corrente il dispositivo inizia a scaldare molto quindi bisogna prendere con le pinze questi parametri qua però comunque già fornire mezzo ampere un ampere non è non è male ha un'efficienza del 94 per cento quindi abbastanza elevata come dicevo questi sono dei convertitori switching quindi hanno una frequenza di apertura chiusura dell'interruttore perché funzionano in questo modo per caricare diciamo il condensatore o gli induttori di accumulo di una frequenza di 400 kHz molto alta questa frequenza molto alta che è della classe successiva della di questo integrato permette di avere in effetti maggiore tensione e maggiore correnti in uscita come dicevo prima la tensione d'uscita ha delle oscillazioni questa oscillazione orientativamente su questo dispositivo si orientano sui 50 millivolt però cosa dice dice che praticamente all'aumentare della tensione d'ingresso quindi se noi selezioniamo una tensione d'ingresso più alta il ripple ovviamente aumenta poi ha una regolazione sul carico di più o meno 5 per cento e una regolazione sul sulla tensione di più o meno 0,5 per cento e diciamo una temperatura di operatività tra i meno 40 e 85 gradi centigradi le dimensioni abbiamo visto i primi 43 21 14 millimetri allora vediamo brevemente diciamo dal data sheet la configurazione dei pin dell'integrato non dell'intero di circuito che noi vedremo dell'intero convertitore quindi possiamo vedere il primo pin il nostro è praticamente il nostro gnd il nostro ground poi abbiamo il secondo pin che è il pin di enable praticamente se in questo pin c'è un segnale basso praticamente la periferica è spenta se invece si ha un segnale alto la periferica c'è il device è acceso nel momento in cui non esiste nessun collegamento quindi sia un collegamento floating di default lui lo porta alto quindi sarà il dispositivo acceso 3 3 praticamente è l'uscita power switch output pin o praticamente il nostro della nostra tensione d'uscita il pin 4 invece è la nostra tensione d'ingresso cosa ci dice che l'operatività del diciamo del nostro integrato è tra i 5 32 volt di in corrente continua e dice che praticamente inserendo nell'ingresso tra win e gnd un condensatore abbastanza grande si riesce ad eliminare il noise il rumore di in ingresso come dicevo prima quindi perché si interpongono dei filtri ingresso e uscita come ultimo abbiamo il pin numero 5 che è il pin di feedback questo qui diciamo che attraverso questo pin mettendo esternamente una rete di resistori in questo pin qua praticamente lui rileva la tensione d'uscita e di conseguenza riesce a regolarla la tensione diciamo di soia di feedback è impostata a 1,25 volt questa infatti ce la ritroveremo successivamente questo sempre presso dal datasheet è il circuito del nostro convertitore in modalità boost converter diciamo ci sono varie configurazioni questa è la configurazione classica ovviamente può può cambiare della configurazione boost converter come vedete e questo è l'integrato che quello che abbiamo visto prima che sarebbe questo qua praticamente qui il pin di enable quasi di qua scegliamo se attivarlo o disabilitarlo ma ovviamente questo è già è sempre abilitato come vedete nell'ingresso c'è una rete di condensatori e anche in uscita questi sono condensatori di filtraggio come vedete sono abbastanza grandi questa è l'uscita questo è l'ingresso questo di 220 micro farad questo di 100 e sono di filtro diciamo tra ingresso e uscita come vedete questi qua piccolini sono altri condensatori e sono fanno parte della rete di ingresso e di uscita questo è il nostro induttore questo qui che praticamente non fa altro che immagazzinare nel diciamo la la tensione che poi andrà a caricare i nostri condensatori e quindi diciamo ad elevare ad ogni switch la nostra tensione di uscita questo diodo viene interposto tra i capacitori e l'induttore perché quando questo è off quindi non sta erogando corrente praticamente i condensatori tendono a scaricarsi quindi si tenta di bloccare la scarica dei condensatori in modo tale che al ciclo successivo non siano diciamo scarichi quindi in modo tale che la tensione cresca sempre più allora poi praticamente cosa abbiamo in ultimo ecco questo sarebbe il nostro diodo questo qua allora poi abbiamo come ultimo il nostro praticamente pin di feedback eccolo questa è la nostra rete di resistori tramite questa rete cosa ci dice che lui rileva questo è un partitore di resistenze e rileva la tensione sul partitore e in funzione della tensione lui regola di conseguenza diciamo l'uscita allora quindi si può tranquillamente capire che intuire che variando una delle resistenze sia praticamente la variazione della tensione ad uscita infatti la legge che regola questo circuito diciamo la funzione l'equazione che regola questo circuito è v out uguale a 1,25 quella che la soglia fissa di feedback che moltiplica 1 più il rapporto tra r2 e r1 si può ben capire che variando ad esempio r2 con un trimmer come questo qua questo è un trimmer a vite si può tranquillamente variare la tensione di uscita quindi questo dovrebbe essere ad esempio questo qua la variazione si va agendo su questa vite qua quindi la legge che l'equazione che identifica quel circuito abbiamo detto che v out uguale a 1,25 per 1 più r2 su r1 si può ben capire che se r2 tende a diminuire con sempre r1 fisso il rapporto r2 r1 diminuisce se il rapporto diminuisce quindi la v out di conseguenza diminuisce se questo rapporto diminuisce il prodotto tra 1,25 e questo qui tende ad essere più basso viceversa se r2 tende ad aumentare con r1 sempre fisso il rapporto r2 su r1 aumenta quindi di conseguenza la nostra tensione di uscita tende ad aumentare quindi agendo sulla rete di feedback possiamo regolare la nostra tensione di uscita ad esempio questo è un classico esempio dove si possono utilizzare questi dispositivi come vedete ad esempio qui si ha una striscia led di 12 volt in corrente continua e ad esempio abbiamo noi solo delle batterie di 3,7 volt cosa possiamo fare? interponiamo tra l'alimentazione il nostro DC-DC converter regoliamo la tensione affinché arrivi alla tensione desiderata e tranquillamente riusciamo ad alimentare il nostro carico ovviamente dobbiamo sempre stare attenti alla quantità di corrente richiesta dal carico ad esempio se questa è una piccola striscia led che vuole qualche mAh tranquillamente lui riesce ad erogarlo quindi con una semplice batteria da 3,7 volt riusciamo ad accendere tranquillamente delle strisce led ora praticamente vi lascio a delle immagini che ho fatto in laboratorio in cui praticamente non faccio altro che utilizzare questo dispositivo e farvi vedere come varia la tensione d'uscita agendo sul trimmer quindi una semplice prova di funzionamento senza carico e dopo torneremo qui per le considerazioni finali a presto Grazie a tutti. 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 Ci viene d'aiuto in molti progettini. Spero che il video vi sia stato utile. Vi invito a mettere mi piace al video e anche al canale. Alla prossima, grazie.